ciao sono alice come ogni giovedì è uscita l'anteprima Lidl vediamola subito se vuoi scoprire tutti i segreti dei volantini e fare i tuoi acquisti in modo ancora più consapevole visita anche il mio blog su trova volantini vuoi vedere un altro volantino scoprilo subito su trovavolantini.it siete in tantissimi a guardare i nostri video su trovavolantini.it ma non tutti ci seguite ricordate iscriversi è gratis vi basta un click ma per noi fa una grande differenza lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video va in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione che ne pensi di queste offerte? scrivi nei commenti aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori e tu in quale negozio vai? e tu in quale negozio vai? scrivi nei commenti vuoi essere tra i primi a conoscere le offerte più convenienti? iscriviti al mio canale telegram e non perderti neanche un'occasione su trovavolantini.it le offerte della tua città a portata di un click e a portata di un click Grazie a tutti. 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 Ci vediamo al prossimo video su Trova Volanzusa. Ciao.